In questa prima Quaresima che viviamo assieme ho pensato di venire incontro a un desiderio che secondo me è importante, quello di vivere la Quaresima in compagnia con la parola di Dio e in modo particolare di valorizzare il Vangelo al centro della Quaresima. Ho sempre amato incoraggiare una lettura continua del Vangelo e non andare a prendere pezzi qua e là. Per questo già nella mia attività di parroco avevo più volte realizzato dei libretti per i miei parrocchiani che aiutassero a fare una meditazione lungo la parola di Dio nei giorni della Quaresima e abbiamo elaborato questo libretto per i giovani e per le persone della nostra Diocesi. È molto semplice, è pensato per ogni giorno della Quaresima. Ogni giorno è proposto un breve brano dal Vangelo di Marco in modo da portarci a leggere i primi otto capitoli del Vangelo di Marco, un percorso che ci aiuta a comprendere chi è Gesù. È il tema di questo cammino dei primi otto capitoli del Vangelo di Marco. Ogni giorno c'è una breve meditazione e una frase che sintetizza e concretizza nella nostra vita quello che abbiamo meditato. C'è poi una storia, una storia istruttiva, un racconto, una piccola favola. Vengono da un sito internet nel quale potrete trovare tante altre di queste storie. Ho messo questa storia non solo per chi adulto legge questo libretto e vuol fare magari una meditazione anche più leggera, ma per incoraggiare le famiglie a recuperare un compito molto bello, quello di raccontare favole istruttive ai figli. Se i genitori con ragazzi e bambini vogliono vivere con loro la quaresima, possono farlo leggendo giorno per giorno queste storie e magari aiutando i figli a scoprire il significato istruttivo di queste piccole favole. Buona Quaresima!